E' stato approvato dalla Commissione Generale un regolamento per l'affidamento degli incarichi legali. Il regolamento pone Gela al primo posto in Sicilia e forse in Italia. Il Comune infatti è il primo che si adegua alla normativa prevista dalla norma 50 barra 2016 inserita nel nuovo codice degli appalti. Si tratta di una novità assoluta perché prevede l'istituzione di un albo da parte del Comune suddiviso in 5 fasce, civile, penale, amministrativo, lavoro e tributario. Gli incarichi verranno assegnati a rotazione sempre nell'ambito delle fasce che vengono costituite e in ogni caso non vi sarà nessuna disparità di trattamento nei compensi. Spazio anche ai dottori in legge, a coloro cioè che non sono abilitati e che siano iscritti da almeno due anni nell'albo dei patrocinatori legali. Si è arrivati oggi ad un regolamento sui incarichi legali condiviso ampiamente. I principi fondamentali di questo regolamento sono ad oggi la condivisione, la trasparenza e soprattutto anche l'apertura ai patrocinatori. L'obiettivo senz'altro rimane sempre quello da una parte di creare elementi e condizioni di trasparenza ma nello stesso tempo di risparmio economico. Per cui ecco perché in via sperimentale siamo convinti in una fase iniziale, ecco il concetto di sperimentare, di raggiungerlo questo obiettivo. Speriamo di raggiungerlo, ecco, riteniamo di sì laddove non fosse possibile verifichiamo sempre insieme al Consiglio Comunale di trovare anche altri elementi, vediamo. Il regolamento è stato condiviso dalla Commissione Generale con l'amministrazione comunale e con l'Ordine degli Avvocati. La Commissione è preseduta da Giuseppe Guastella, Vicepresidente Giovanni Panebianco, componenti sono Carmelo Casano, Sara Cavallo e Francesca Caruso. L'ultima parola aspetterà comunque all'assise civica. I nostri giovani colleghi avranno l'opportunità di avere incarichi legali. Nel regolamento è previsto un aumento dei compensi secondo i medi delle tariffe forensi, mentre prima era calcolato ai minimi. C'è l'assicurazione che tutti avranno non solo parità di trattamento nella distribuzione degli incarichi, ma anche nel valore. Quindi significa che tutti avranno medesimi compensi senza nessuna discrezionalità da parte di chi che sia. E' l'assicurazione che verranno tutelati tutti i professionisti gelesi, quindi gli incarichi verranno dati per la maggior parte ai professionisti gelesi, salvo poi dei casi in cui le materie o comunque la professionalità, stiamo parlando di professionità universitaria, lo richiedono e solamente in quel caso si potrà ricorrere a professionisti di fuori. Quindi veramente una novità, frutto del lavoro non solo di questa commissione, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela e dell'amministrazione comunale che ha ben ricepito le nostre osservazioni.